arriva la busta arriva la cifra 160 mila euro questo vale la parola che è chiusa per ora sigillata nella nostra busta all'ora della ghigliottina ci riprova la nostra fantastica campionessa barbara non ti chiedo niente ti lascio concentrare la cuffia te lo chiedo dopo in caso cuffia samira andrea noi voi a casa la famiglia delle reità c'è per giocare per tifare per la nostra campionessa per provare a indovinare quando mi fai segno io comincio e allora ghigliottina lavoro lavare lavoro ghigliottina lavoro migliore milione migliore ghigliottina sceglierai segnale oppure speciale segnale segnale ghigliottina lavoro migliore speciale correre correre ordine 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 ghigliottina stavolta stavolta la campionessa non di mezza questa volta no ancora una parola da trovare moderno esterno 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 ghigliottina altissima la percentuale di barbara quattro parole su cinque ieri percorso netto la scelta è giusta adesso vediamo lavoro migliore speciale ordine esterno un minuto da adesso barbara dai buona fortuna grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti I suoni li conoscete molto meglio di me? Lo so, a casa state giocando per la soddisfazione, uno direbbe si gioca per la gloria, la campionessa gioca per la soddisfazione, per la gloria e anche per 80.000 euro. Ha dimezzato solo una volta, puoi levarti la cuffia, Barbara non c'è più bisogno di essere isolata dagli altri, nessuno può più suggerirti, ormai sarebbe tardi, ha già scritto e consegnato. Io prima della partenza del minuto per scrivere, l'ho sicuramente spiegato male, ce l'avevo in testa ma non riuscivo a restituire il concetto, su tre ghigliottine è una percentualantissima, nel senso di parole scelte. Cioè ha dimezzato una volta sola in tre ghigliottine, le altre due precedenti volte ha fatto il percorso netto, poi ahimè la parola non era quella vincente. Stasera ha dimezzato una volta, che è già una speranza, non ha fatto il percorso netto. La vedo con lo sguardo concentratissimo, se potessi metterebbe la piastrella con la parola, rigida. Lavoro migliore, speciale, ordine esterno. Cosa ti turba Barbara? Allora mi turba che, prima di tutto per la prima volta, come molti raccontano, ho sentito a molti raccontare quel fenomeno per cui c'è una parola che ti si fissa in testa e non riesci più a mandarla via. E mi è successo per la prima volta. Con quale? Con quale parola? No, no, cioè una delle cinque, quella che decidi tu e quella è rimasta. E poi, ecco, con le prime tre tornava, con le ultime due ne ha lasciato un po' così, però ho continuato a ragionare e non ho trovato nient'altro. Quindi sia da campionessa che da antropologa dici che il fenomeno può succedere. E d'aspetto a trisci. Cioè, ti entra quella in testa e rimani quel pensiero. Sì, sì. Calma, che non è detto, voglio dire, stiamo parlando per ora di una cosa, di una parola che non sappiamo, che magari è quella che stasera vale 80.000 euro. Partiti da 160.000 euro, ha dimezzato solo una volta la nostra bravissima campionessa. Non vi ci abituate? Allora, così. Lavoro migliore, speciale, ordine esterno, ha dimezzato solo una volta, dicevamo, la campionessa, che ci ha lasciato così in sospeso. Mi si è, come dire, piantata in testa nei pensieri una parola e... La parola, te la dico, è offerta. Offerta di lavoro, migliore offerta, offerta speciale. E dici, e fino a più a meno. Fino a allora, e poi è arrivato l'ordine che mi ha un po' così scombinato tutto, e soprattutto esterno, specialmente se è concepito come aggettivo. Sì. Perché è maschile, è offerta, è femminile. O andare all'esterno per un'offerta. E ho pensato che esterno, volendo, può essere anche un sostantivo, l'esterno, mobili esterno, ma offerta, con offerta non ho trovato nessun, nessuno. E tu riconosci, come dire, questo meccanismo, che è tra i mille meccanismi della ghigliottina, che se ti viene quella parola, dici, si rimane lì e non riesci a... Finora non era accaduto, ho continuato a ragionare per tutto il tempo, invece qui stavolta c'è stato un po' di buio dopo la... Apparente folgorazione... Lavoro, migliore, speciale, ordine esterno, in questo momento che non ci rincorre più il cronometro, che ti viene in mente? Il tanto giriamo e controlliamo che tu veramente abbia scritto giro io, e che tu abbia scritto offerta e l'hai scritta. Offerta di lavoro, migliore offerta, la migliore offerta, un'offerta speciale. Beh, se dici, c'è l'ordine, arriva l'ordine di fare un'offerta. E un'offerta all'esterno. Ci sono all'interno e ci sono all'esterno. Oh, è sì. Con le prime tre ragione perfetta. Vorrei poterti dire, ma no, ma guarda che... Siccome ti fiamo tutti, come dire, per te, perché sei veramente una persona fantastica, e diceva, speriamo che per lei veramente sia quello speciale, vince, e oggi, no? Sarebbe stato... Giorno speciale. Giorno migliore. Lavoro, un giorno di lavoro. Ah, sì, sì. Un giorno di lavoro, giorno di lavoro, non di vacanza, noi non lo sappiamo questa cosa, perché qui giochiamo, quindi proprio lavorare non ci sentiamo, come diceva Marcello Mastroian, sempre meglio che lavorare, e non lo diceva solo lui. I grandi lo definiscono un grande gioco, però c'è un giorno di lavoro, un giorno migliore. Questo poteva essere un giorno migliore con la vittoria e anche il capolavoro dei Luna Pop. Un giorno migliore, vedrai, un giorno speciale, speravamo che lo fosse per te. E poi l'ordine del giorno, anche in una produzione televisiva, sul set di un film, un telefilm, in una ditta, dice che prevede oggi, è l'ordine del giorno, le cose da fare. E appunto sul set cinematografico televisivo, esterno giorno, la scena è ambientata appunto fuori, poi magari piove e si va dentro, ma la scena inizia così. C'è mattina, alba, esterno giorno. Esterno giorno non festeggiamo, qui è interno notte e la parola purtroppo non è offerta, non andiamo a festeggiare, andiamo però a controllare che la parola sia al giorno. Ci riproveremo, Barbara, di giorno, di notte.